eccoci qua ciao paola ciao studio e ciao a tutti indovinate dove vi ho portato in questa giornata in cui parliamo di creato nel canile di manfredonia non poteva esserci un posto migliore per essere proprio a contatto con la natura e con tutte le creature di dio io sono qui in compagnia del presidente della sezione di manfredonia dell'empa marco lupoli grazie marco per averci accolto a casa tua equitanti purtroppo lo vogliamo dire purtroppo sono gli abitanti un numero vogliamo quanti cani ora in questo momento si trovano qui nel canile attualmente in canile si trovano 246 cani censiti al 28 febbraio 2021 la struttura come ben si sa come ben sa anche la stampa è il comune di manfredonia è in sovraffollamento perché diciamo il numero consentito è di 184 cani circa ma comunque con dei grandi sforzi stiamo riuscendo ad avere degli ottimi risultati viste le adozioni che comunque su manfredonia e anche a livello nazionale continuano ad arrivare delle richieste di affidamento dei nostri dei nostri amici pelosetti quindi allora diciamo che il numero così alto forse dovuto proprio a una sconfitta dell'intelligenza umana così diceva gandhi è vero perché chi abbandona gli animali lo ricordiamo qui ci sono animali abbandonati cani randaggi cani maltrattati e quindi salvati dalle strade si arriva fino a questo punto la qua proprio diciamo il cuore non c'è da parte della gente qui ogni cane sicuramente ha una storia da raccontare perché non tutti o buone pochissimi sono entrati diciamo con un ingresso normale il più di questi cani cioè la maggior parte di questi cani sono entrati in pessime condizioni di vita vuoi per l'incidente stradale il maltrattamento e anche per quanto riguarda lo status in alcune strutture privati di persone che detenevano questi cani in una maniera diciamo non consona a quelle che sono i regolamenti veterinari i regolamenti civili di una città noi abbiamo qui un cagnolino che ci segue controlla anche lei si chiama pucca pucca ed è una cagna che qui con noi da nove anni con un problema neurologico ha trovato ovviamente no pucca è adottata da una famiglia del nord a distanza dove ci mandano dei piccoli contributi per poterla sostenere nelle sue cure che vengono effettuato su di lei allora visto che hai già anticipato un po la modalità ecco cosa si può fare per dare una mano al canile in questo caso nella sezione di manfredonia dell'empa ma anche ai cani singolarmente qual è la mission praticamente che portate avanti la mission dell'empa è quella di poter dare una famiglia a tutti questi cani perché considerate se con tutto l'amore che noi prestiamo per questi cani l'obiettivo nostro è quello di tutte le associazioni presumo è quella di dargli una famiglia cioè noi non vorremmo che questi cani restino qui a vita anche perché voglio dire è come se fosse una detenzione ecco questa cosa la diretta anche prima telecamere spente ci ha colpito molto perché seppur trattati bene curati comunque non hanno il calore di una famiglia certo certo non hanno il colore di una famiglia umana ci hanno hanno solo il nostro calore il personale di qualche volontario che viene qui ad aiutarci magari a coccolarli però purtroppo alla fine delle ore diciamo disponibili per poter stare qui con il loro poi noi andiamo via e loro restano o rientrano nelle proprie gabbie questo è un invito che vogliamo fare anche a chi ci segue da casa è il cane e poi per antonomasia anche un animale da compagnia quindi tante persone che si sentono sole a casa potrebbero adottarne uno ma non comprarlo venire in un canile e guardarlo negli occhi poi è un po lui che sceglie il padrone vero al cane guarda io alcune volte quando vengono delle persone qui a chiederci insomma informazioni sui cani o per un'intenzione di un adozione di un cane gli dico andate in giro e fatevi adottare da un cane perché lo sguardo che si incrocia con la persona perché molte volte sono cani che esprimono delle solo con lo sguardo ma queste sono cose basilari che tutti sanno basta guardarli negli occhi e si riesce a capire la storia di un cane perché è facile intuire in un cane chiuso in una struttura in un canile magari sarà magari è arrivato anche da cucciolo è vissuto per diversi anni in questa struttura e quindi lì si vede la tra virgolette anche la sofferenza di un cane perché ripeto mi riallaccio quello che ho detto prima la detenzione è una detenzione tutti gli effetti hanno l'ora di svago il cibo le cure le coccole ma il tutto poi rimane racchiuso in questa struttura noi l'invito che facciamo colgo anche l'occasione per poter invitare i cittadini qualora fossero interessati a venire nella nostra struttura noi siamo aperti al pubblico da lunedì al sabato dalle 12 alle 13 per visitare rendersi conto visitare la nostra struttura con l'augurio l'ospicio che qualcuno venga portato via da qualche visitatore cioè adottato l'adozione viene data in totalmente gratuito viene compilato una viene compilato una modulistica dove si mettono i dati del cittadino e dove il cane poi verrà dato in affidamento a questa persona interessata per l'adozione di questo cane o cucciolo quello che sia ed è tutto a livello gratuito i cani vengono dati vaccinati sverminati microcippati e anche sterilizzati benissimo non avete alcuna scusa perché non c'è bisogno di avere tanti metri quadri una casa enorme il cane ha bisogno di stare in quel metro quadro davanti a voi sempre con voi quindi non c'è bisogno di nient'altro se non un cuore grande per accogliere questi animali abbandonati questi cani in particolare marco io ti faccio un'altra domanda perché magari ecco può essere interessante anche per chi vuole dare una mano a distanza qual è il periodo peggiore per i cani qui in canile l'estate o l'inverno perché sappiamo che d'inverno c'è bisogno di coperte ma d'estate forse c'è qualche altro periodo peggiore c'è nel sul nostro territorio come ben sappiamo noi siamo al sud quindi nostro il periodo peggiore il nostro è l'estate perché l'inverno se ci sono dei periodi di freddi dove bene o male riusciamo a dargli insomma un ottemperare un po per le quando riguarda il un po di riscaldamento con delle coperte che ci vengono donate dai cittadini però considerate che in estate qui tocchiamo delle cdl del dei gradi insomma abbastanza elevato diventa abbastanza sofferente ecco perché ripeto noi ci auguriamo che questi poveri cani vengano adottati ma al di là del fatto della dell'adottabilità che molti di questi cani hanno perché c'è gente purtroppo che viene qui a trovarci è il più delle volte non fa altro che chiederci dei cani di razza al che li restiamo un po interdetti e cerchiamo di far capire a queste persone che non c'è differenza tra un cane di razza un cane meticcio assolutamente no anche perché ripeto abbiamo avuto delle esperienze con delle persone che sono venute qui negli anni scorsi negli anni precedenti a con intenzione di voler adottare un cane di razza poi magari convinti di aver individuato il cane per loro diciamo esatto quello che poteva andare vengono a trovarci ancora tutt'oggi e vengono a complimentarsi con noi perché non fanno altro che dici questo cane ci ha cambiato la vita nel senso buono e molte volte noi ricordiamo questo ma voi vi ricordate quando se eravate venuti qui che cercavate un labrador o un pinger o un jack russell o un cocker poi venissete andati con un cane meticcio oggi la cosa più bella le congratulazioni le soddisfazioni più belle sono proprio queste che ce le portano loro stessi qui in canile portandoci i loro cane che hanno adottato due tre quattro anni fa confermo anch'io ho preso un cane per strada abbandonato e anche maltrattato da bambini un po di quelli sai violenti teppisti come diciamo noi ed è quello che ha dato più gioia in casa in assoluto quindi confermo in pieno marco ti ringrazio poi ricordatevi c'è san francesco e lui parlava agli animali e se lo faceva lui possiamo stare starne certi qui c'è anche un suo una sua scultura di san francesco all'interno dell'empa quindi insomma l'amore per gli animali deve essere incondizionato come il loro verso le persone grazie per averci accolto qui io ringrazio voi se ci sarà la possibilità di poter effettuare qualche altro intervento sembra fin di bene con lo scopo di poter ripeto dare una famiglia a questi cani noi non finiremo mai di pubblicizzare di a farci aiutare da chiunque possa essere interessato per questa nostra mission per poter far sì che uno di questi cani ogni tanto possa uscire fuori da questa struttura e noi nel nostro piccolo insomma proviamo a fare qualcosa grazie sai come chiudiamo questo spazio perché il titolo del programma è anche questo addio piacendo dillo tu addio piacendo ci rivediamo sempre qui ciao ciao studio